44 contagi nelle ultime 24 ore in Irpinia, ma si registra una tregua sul fronte decessi. Intanto è sempre più caos per la riapertura delle scuole. Nel capoluogo Festa ha rinviato il rientro delle superiori e dopo i casi alla Solimene, all'elementare di Via Roma, isolata anche la prima via alla Enrico Cocchia per la positività di un alunno. La preside Mauriello ha provveduto già oggi a far sanificare l'intero plesso. E il comitato dei genitori chiede all'amministrazione comunale di dotare tutte le scuole della città di sanificatori che assicurerebbero una protezione costante agli alunni. Il costo non è esagerato. Parliamo anche di 800 euro complessivi di queste attrezzature. Basta fare la moltiplicazione del numero di aule che dovrebbe essere intorno alle 250 per 800 e una somma intorno ai 200 mila euro molto abbordabile. Anche perché è stata poca la risposta che l'amministrazione ha dato per l'emergenza, per cui questo penso che sia una soluzione immediata per tranquillizzare le famiglie e per risparmiare anche i costi delle continue sanificazioni. A San Martino Valle Caudina il sindaco Pisano ha deciso di prorogare la chiusura al 6 febbraio mentre a Mercogliano infuria la polemica dopo la decisione del sindaco D'Alessio di procedere con la didattica scelta. Le famiglie possono optare anche per seguire le elezioni da casa ma questa soluzione non convince la preside del comprensivo dorso Alessandra Tarantino che ha chiesto l'Umia, prefettura e provveditorato. Questa facoltà ci spiega la direttrice regionale Maria Luisa francese non è prevista dal MIUR e la valutazione finale sulle motivazioni per seguire da casa spetta comunque alla scuola a meno che il sindaco non disponga una chiusura per emergenza sanitaria.